perfetto signori siamo qui con il quarto tentativo per fare la missione dell'incarico speciale se vabbè è la missione dell'incarico per fare l'incarico speciale della ricazza che siamo per appunto al quarto tentativo dobbiamo farcela ho già detto che molto probabilmente Chris David non parlerà affatto vedrò di stare in muta come un pesce e di concentrarmi a massimo allora metto subito ecco bevanda fresca così non appena lo troviamo cioè non appena andiamo nella zona ho già la bevanda pronta a bere per la zona vulcanica per l'appunto e poi non appena arriviamo appunto ragazzi in muta come un pesce in muta perché con questo mostro ci vuole concentrazione mi devo concentrare veramente ragazzi veramente veramente dove cacca stiamo andando ragazzi veramente con questo mostro ci vuole una grande concentrazione qui ci sono dei sclerosi cioè dei maledetti ho alzato il volume ragazzi quindi se sarà alto il volume non mi rifega un tubo intanto qui mi ha visto io non ho fatto il video non mi ha visto perché c'era il coso davanti ok ragazzi adesso ragazzi concentrazione concentrazione mi serve devo fare meditazione per far ammazzare questo mostro non mi rifega un po' Ok, oh no, ti salto Tiatno Dai, lo gatto, distro, 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 distro Ok Non devo stare davanti, devo stare dietro Pericoloso stare davanti Appunto Levati Pericoloso stare davanti Pericoloso stare davanti Ah 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 Se solo contasse qualcosa il gioiello dell'udito che ho, cioè quello che i teori mi dovrebbero correggere dall'udito, cioè dai ruggiti, e non aveva questo problema. Che cacchio vado ragazzi? Guardate ragazzi, sapete che ho scoperto che si possono colpire parte dei mostri anche se li colpite standogli in groppa, cioè mentre li fate tipo il turbine per farli cadere potete rompere una parte se sono sui limiti. Grazie a tutti. Vado con la santa, così tanto mi toglie, quindi se non è potenzialmente mi ammazza in un colpo. Vado, vieni qua, fai di vita, bastard. No, capito, finito l'eruzione. Nostra, i teori però sono utili quando ci passano sopra. e' un po' di un salto. io non ho capito ancora la logica è questa della coda una volta che faccio il salto quando serve si è calmato cioè stanchissimo cioè nel senso che si è calmato nel senso che si è calmato un giro ragazzi forse stavolta se sto zitta ce la faccio forse ce la posso fare ragazzi ce la posso fare l'ho detto tutta una questione di concentrazione è sempre una questione di concentrazione i mostrati sono tutti i mostri cazzucci voi fate un'altra disputa voi due? ok un'altra disputa vado 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 certo che prima non vi facevo vedere i numeri di danno cioè i numeri del danno dato dai mostri ad altri mostri adesso lo fanno vedere se è una cosa dell'aggiornamento oh ragazzi finchè camone devo approfittare cioè finchè è calmo tra parentesi parte rotta in corno sinistro raga destro e sinistro e un'altra rotta perché sai chi l'ha tirata questa l'ho tirata io l'ho tirata in qualche in qualche cazzalaca antipatico ma che cacchio animazione di kagotaebo vabbè ok incazzato ok ho come l'impressione che più lo copisco la testa più si incavola più velocemente questa impressione qua ma proprio non ci faccio neanche caso nooo nooo ho ancora un tentativo ah questi suoni che sentite sempre è la mia sedia è qui a fianco ah no forse c'è il terveggio che è appena arrivato è qui ah 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 no ah 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 sapete che questo volume se non si regola è veramente una cosa che spacchettina guardate si è alzato il volume e si è appena abbassato super vissuta stava cagano no raga ma non ci posso credere ma non l'altra volta no va a cagare ma va a cagare ma va a cagare ma va a cagare chiudio raga chiudio no 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 chiudio raga passate a essere otti incredibilmente mi sono salvata la vita non so come non mi sono salvata la vita come fai nella cosa che ti sto spaccando la coda? no raga però giuro che dopo questo spettativo basta eh sono un pochino tale fase di questo di questo mostro è nel mio stile e si vede dio santo davvero se perdo provo a raffrontarlo ma non è proprio... non è proprio nei miei panni proprio non... proprio difficile no 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 ma fatti prendere in salto no 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 veramente no basta ragazzi basta io rinuncio io rinuncio mi credo veramente no ragazzi no mi spiace anche perchè dio santo dio santo perchè veramente proprio non è nelle mie corde questo mostro dio santo veramente una cosa veramente antipatico odiosa non mi piace no non mi piace non mi piace non mi piace un po' mi dispiace anche perchè un po' mi fa l'idea invece la cosa che del fatto che qualcuno sotto il video del brachino si vede se mi ha scritto come che ha fatto sopravvivere a insomma come ha fatto sconfiggere questo primo colpo e col tigre che si sei morta perchè praticamente poi mi ha spiegato che i brachino sono dei mostri più odiati di monstre arte no invece a me piacciono amati ecco invece se il gage è un mostro che è uno dei più odiati di monstre arte questa volta concorda veramente fa incazzare è peggio del gigante dio santo veramente un diverso di incazzatura qui sale ai livelli assurdi proverò a riaffrontarlo sicuramente forse quando va ancora difesa più alta non so c'ho 937 di difesa quanto cacchio dove difendemi per riuscire a fare quel dannato raga non lo so sto di fatto ragazzi che proprio questo periodo il suo veramente no mi spiace ma per forse questo periodo che forse sto andando sono anche inviata con la scuola sarà per quello si perché non abbiamo appena iniziato la scuola sono già tantissimo impegnati ma comunque ragazzi al momento veramente no ci riproverò sicuramente come ho intenzione di trovare tutti gli altri carichi speciali vecchi che appunto intenzione di fare una volta fatto anche l'incarico che stiamo per andare a fare adesso però al momento veramente ragazzi no no mi spiace al momento rinuncio mi arrendo di fronte all'incarico speciale del gaggia al momento quindi però vediamo di andare a vedere cosa si è sbloccato qui però per questo prossimo episodio quindi adesso fermo il video e facciami partire e